Sconfitta di misura per la polisportiva Santa Maria a Cilento che perde contro la capolista per 1-0. Dopo una fase di studio, la prima occasione per i Murgiani con un tiro avvicinato di Loiodice che si stampa sulla traversa. Rasoiata poi di Pellegrini dalla distanza con il pallone che termina sul fondo. Alla metà esatta della prima frazione il Santa Maria si affaccia nella metà campo avversaria con Catalano che calcia da buona posizione trovando solo l'esterno della porta. Poco dopo la mezz'ora manovra interessante dell'Altamura che porta alla conclusione Maccioni, il suo tentativo è deviato dalla difesa in corner. Mentre poco dopo Catalano su calcio di punizione non riesce a disegnare una traiettoria pericolosa. Nella finale l'Altamura alza i giri del motore con uno spunto di Loiodice che trova i guantoni di Canizzaro a deviare in corner. Mentre al 44esimo è decisivo con un doppio intervento Canizzaro su Loiodice che sbuca alle spalle della difesa ma è bravo l'estremo difensore a chiudere lo specchio della porta prima sul tentativo di Loiodice e poi ancora sul nuovo tentativo del numero 10. Si va così al riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo parte forte la squadra di mister Esposito con Gaeta che serve in unziante. Il suo tiro è bloccato in due tempi dall'estremo difensore murgiano. Catalano poi si accentra e calcia distante dallo specchio della porta e un buon Santa Maria che ci prova ancora dalla distanza con Muda Siru senza precisione. Nel momento migliore di Cilentani arriva il vantaggio dell'Altamura con Saraniti che sbuca alle spalle della difesa giallorossa e supera Canizzaro 1-0. I padroni di casa provano a legittimare il vantaggio con un tentativo di mobilio chiuso in uscita da Canizzaro poi un pallonetto che rotola al lato dello specchio della porta. L'attanzio serve lo iodice che calcia sul fondo. Ancora una chance per i murgiani. Mentre il Santa Maria a 10 dalla fine ci prova con Di Fiore da oltre 30 metri senza trovare lo specchio della porta. Nella finale di tempo una punizione di lo iodice da posizione defilata termina sul fondo. In sei minuti di recupero il Santa Maria prova a mettere paura il team Altamura per portare a casa un risultato positivo ma non ci riesce. Termina 1-0. Testa subito per i Rossi al prossimo match infrasettimanale contro il Casarano.